Buongiorno amici, oggi faremo la torta caprese con farina di castagne. Ingredienti per la ricetta. Occorrono 350 g di farina di castagne, 230 g di burro morbido a pomata, 150 g di cioccolato fondente, 40 g di cacao amaro, 180 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato e 5 uova. Procedimento della ricetta. Prendiamo l'uova e separiamo i tolli dagli albumi. Gli albumi vanno montati a neve con 50 g di zucchero. Invece i tolli vanno montati con il zucchero a velo e il burro a pomata. Dopodiché, montati bene e bene, aggiungiamo il cioccolato fuso in precedenza a bagnomaria, la farina di castagne e il cacao amaro. E questo è il procedimento della torta. 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 E questo è il procedimento della torta.